Sì, ci ha raggiunto Voiacco. Il Cosenza l'ha giocata sulle ripartenze, l'ha vinta su un calcio piazzato. Cosa è mancato invece al Benevento? Sicuramente è mancato qualcosa. Per noi era una partita molto importante. Queste partite si decidono spesso sugli episodi e magari ci voleva un pizzico di attenzione, un pizzico di cattività in più, che in queste partite fondamentali non può mancare. Sicuramente non possiamo parlare di imprevedibilità da parte della squadra di Bisoli perché si sapeva che con il rientro di Camporese, di Rigione, si schierava con la difesa a tre. Quindi un autentico pullman, come si suol dire, davanti alla difesa. Come l'avete preparata per uscire fuori da quello che potevano essere le sabbie mobili, che erano prevedibili? Sì, soprattutto con queste squadre che si devono salvare, che si schiacciano molto, ci vuole molta pazienza. Infatti nel secondo tempo stavamo riuscendo a trovare i nostri ritmi, siamo stati pericolosi in varie occasioni. E' mancato il guizzo finale. Gli episodi sono determinanti. L'abbiamo preparata così. Stavamo attenti a non concedergli troppe ripartenze. Abbiamo accettato il due contro due io e Barba. Penso che soprattutto nel secondo tempo non l'abbiamo subito. che è mancato appunto il guizzo finale e poi l'attenzione nei minuti finali che non può mancare. Alessandro va tolta subito dalla testa, chiaramente con la consapevolezza dell'errore commesso, ma anche con, volendo dire, la leggerezza di affrontare poi i prossimi giorni per non arrivare pesanti mentalmente con la missione Pordenone. L'Ignano-Sabbiadoro dovranno essere tre punti. Sì, sicuramente oggi c'è tanta amarezza. Da domani come dopo le vittorie, da domani dovremo essere bravi a resettare e a pensare già alle prossime partite. Nulla è perduto, noi ci crediamo. Stiamo dando anima e cuore e probabilmente, sicuramente dovremo dare qualcosa in più. Però noi continuiamo a crederci, stiamo lavorando seriamente e vogliamo essere protagonisti. In un modo o nell'altro vogliamo portare a termine la nostra missione. Ciao Alessandro, credo che sia un vero peccato quel gol in cui praticamente Camporese è saltato tra te e Barba, che è stato preso. Perché poi, voi nel secondo tempo non era facile tenere a bata sugli spazi larghi un peperino come Caso, che tra l'altro è di proprietà del genere, ma come lo sei tu. L'avete controllato abbastanza bene, anzi non è che abbia creato grandi problemi alla difesa. Peccato per quella distrazione, possiamo chiamarla distrazione sul calcio d'angolo. Sì, ce l'aveva preparata bene il mister, sapevamo che dovevamo fare bene le marcature preventive e penso che ci siamo riusciti. Non so se è disattenzione, cos'è quel gol, sicuramente non va preso soprattutto nei minuti finali. Siamo dispiaciuti e studieremo perché non succeda. Secondo te cosa è mancato? L'atteggiamento? Magari si è fatta sentire la stanchezza fisica per le partite ravvicinate oppure una maggiore lucidità sottoporta? No, l'atteggiamento penso di no perché tutti sono usciti dal campo stremati e tutti penso che hanno fatto una buona partita. Magari qualcuno ha sbagliato più palloni e qualcuno meno, ma tutti ci tengono. Lo vediamo prima delle partite e oggi c'era un'area particolare perché ci tenevamo, sapevamo che era una partita più che fondamentale. Magari giocando ogni 3-4 giorni a volte ci manca un po' di lucidità, però in queste partite penso che la stanchezza non esista, non possa esistere perché sono troppo importanti e soprattutto abbiamo gente in campo forte e con esperienza che deve sopperire la stanchezza, dobbiamo sopperire la stanchezza con la qualità e con la lucidità. Si riparte da Pordenone, un bene evento che ci crede ancora? Sì, siamo a tre punti dalla zona promozione diretta. Mancano quattro partite e soprattutto alla penultima abbiamo uno scontro diretto. Sabato o lunedì ci sarà uno scontro diretto delle nostre avversarie e vogliamo recuperare punti. Noi sono sicuro che ci saremo fino all'ultima giornata, poi tireremo le somme, ma posso garantire che daremo l'anima fino all'ultimo secondo dell'ultima partita.